La settimana che porta la prima gara di post-season per l'Alio Filchem Roseto con Riccardo Bassi. Riccardo, gara 1 domenica alle 18 qui al Palamaggetti. La sfidante sarà la cestistica torrenovese. Torrenova che si è qualificata ottava nel Gironedì. Voi avete iniziato la settimana ovviamente subito concentrati perché è un appuntamento, soprattutto le prime due gare in casa da non fallire. Sì, la prima cosa che mi viene da dire è finalmente, perché non vedevamo proprio questo momento, non vedevamo l'ora. Sì, ora viene il bello, le prime due gare sono da non fallire, sono in casa, possiamo fare il risultato e le stiamo già preparando, la squadra sta cercando di prepararla al meglio. Poi loro sicuramente sono un avversario complicato perché comunque si sono qualificati i play-off. Non è da tutti, però noi daremo il meglio. Le ultime gare sono state utili soprattutto per far abituare un po' tutti a un minutaggio un po' più ampio, un po' più alto. Avete fatto soprattutto situazioni di scarico durante la settimana per arrivare nel miglior modo possibile ai play-off? Sì, abbiamo cercato tutti di metterci in condizioni, chi aveva problemi, chi invece ha bisogno di acquisire più fiducia, perché nei play-off ci sarà bisogno di tutti. Sono gare molto intense dove la pressione è alta, quindi tutti devono essere pronti, farci trovare pronti quando li chiama il coach. Il tabellone 3, quello in cui c'è l'Ario Filca e il Roseto, è quello molto più difficile rispetto ai altri. Sì, è un tabellone difficile, però a noi non ci interessa, perché sappiamo il nostro valore, sappiamo quello che dobbiamo fare e l'unica cosa che conta è il campo. E' un'unica cosa che conta il campo.